si entrano dalle porte e questa parte dietro bellissima ci sono tanti alberi questa è una porta e proseguiamo probabilmente c'erano tutta una serie di blocchi ah qui un'altra casa di samurai vediamo se siamo fortunati troviamo un'altra pieno di guardie da queste parti ok guarda questi alberi che belli che sono tutti fanno anche male stiamo percorrendo i giardini sono strade molto larghe davvero le carrozze dell'imperiale eh probabilmente si c'erano tutta la parte delle carrozze c'erano questi muri imponenti davvero con questi massi enormi non oso pensare come abbiano portato qui questi massi questi li hanno proprio lavorati sono proprio pezzi di roccia gigante